Non c'è pace per i parcheggi a pagamento a Teramo dopo le polemiche da parte dell'opposizione comunale per la questione multe, ora da alimentare la fiamma delle proteste sulla nuova gestione e il problema grandezza degli stagli e su cui il consigliere comunale di Futuro In, Franco Fracassa, ha voluto mostrare con centimetro alla mano la non regolarità dei parcheggi. Qui in via Savini ho una perizia di un tecnico che asserisce che tutti gli stagli sono in queste condizioni, cioè con una misura inferiore. Cosa succede questo? Succede che solo su questa via ci sono sei stalli in più, quindi lei può immaginare che c'è qualcosa che non torna per i cittadini terramani che hanno uno stallo molto più piccolo, quindi danni alle autovetture e come aggiunta con pochi minuti di ritardo beccano anche una multa. Questo è quello che sta succedendo a Teramo. Ormai siamo arrivati anche a diffidare l'amministrazione, ad intervenire, a controllare, perché nessuno ha controllato, nessuno sta controllando. Si rifiutano di controllare quello che oggi stiamo facendo qui davanti a questo bar, appunto perché non vogliono sapere la verità. Vede, anche questo project, ci sono delle anomalie, non solo sugli stalli realizzati, anche i parcometri non sono quelli previsti, hanno considerato 218 mila euro di investimento che di fatti non ci sono stati, in considerazione del fatto che hanno preso un parcometro che non corrisponde a quello elencato sul project. Sulla vicenda è intervenuta la Easy Help, la società che ha in gestione il servizio delle strisce blu, dichiarando che l'ampiezza degli stalli oscilla tra i 2,67 e i 2,93 metri, mentre la lunghezza non risulta mai inferiore ai 4,80 metri, parametri che per il gestore rientrano in quelli normativi. Ma come se non bastasse questa situazione, la Tercop, la cooperativa che si è occupata delle strisce blu per circa 20 anni prima del riaffidamento del servizio, ha citato il comune chiedendo un risarcimento di 512 mila euro per danni che ne sarebbero derivati dalle scelte fatte negli anni dalle amministrazioni comunali.